Un estratto di alcuni articoli del nostro blog, base sul sito della scuola Aperto a Tutti, in cui varie figure interiscono dei contributi, anche alcuni studenti hanno un sito di loro contributi, e alcuni di questi sono proprio utili per l'orientamento universitario. Ad esempio, abbiamo fatto l'indagine e abbiamo, come dire, anche utilizzato l'indagine di parte da Enzo e di SETA per capire quali sono le principali paure degli studenti che si avvicinano alla scelta per il concorso universitario, quindi ragazzi di PINTA, ma anche ragazzi di PINTA. E quindi abbiamo messo insieme una serie di commenti a queste paure perché sono fondate, perché sono infondate, come ci si teniscono le idee e quindi si sbalanza il campo da queste paure. Poi abbiamo inserito come si può scendere consapevolmente, in maniera, come dire, corretta, proprio per il corso universitario. Grazie. 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 Grazie.